I carabinieri della compagnia di Livorno hanno deferito in stato di libertà un 17enne, ritenuto responsabile di due gravi rapine avvenute nel quartiere Corea della città di Livorno nel mese di marzo. Una in danno di un anziano 76enne e l'altra di un minore 13enne rimasto ferito ad un braccio da una coltellata. Durante le indagini è stato possibile recuperare lo smartphone rapinato all'anziano, al quale è stato restituito dai carabinieri. L'attività coordinata dalla Procura per i minorenni denota l'attenzione dell'arma nei confronti delle fasce deboli, minori ed anziani.